Maura Paparo, la celebre ballerina e coreografa, sarà ospite questo pomeriggio a Verissimo. Conosciuta per essere stata insegnante per ben dieci anni ad Amici di Maria De Filippi, Paparo ha avuto un percorso ricco di successi sia in televisione che dietro le quinte. Dopo aver annunciato la sua gravidanza durante la nona edizione di Amici nel 2009, la ballerina ha deciso di lasciare il talent show per dedicarsi alla sua famiglia. Oltre alla sua esperienza ad Amici, Paparo ha partecipato a diversi programmi televisivi come Piccoli Giganti e The Coach. Negli ultimi anni ha aperto una scuola di danza a suo nome, il Centro Danza Maura Paparo, dove si occupa della direzione artistica e dell'insegnamento. Dopo aver affrontato una gravidanza e un tumore al seno, Paparo ha sottolineato l'importanza della prevenzione e della cura della propria salute. La ballerina ha anche dovuto affrontare il dolore per la perdita dei suoi genitori nel 2022, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. In un'intervista commovente, Paparo ha raccontato la difficoltà di dover superare la mancanza dei suoi genitori, definendola come un pezzo mancante di se stessa. Nonostante le sfide affrontate, Maura Paparo continua a essere un esempio di forza e determinazione per il suo pubblico. La sua presenza, Verissimo, promette di essere un momento emozionante e ricco di spunti interessanti sulla sua vita e la sua carriera. Restate sintonizzati per non perdere l'intervista alla talentuosa ballerina Maura Paparo.